Le ho fatte volare dappertutto, ce l'abbiamo proprio tutti, quelle minuscole monetine che si fa fatica a maneggiare perché spesso si incastrano, scompaiono dentro i nostri portamonete, forse non tutti sanno che si chiamano ramini, queste monetine da 1 o 2 centesimi, in Italia abbiamo smesso di coniarle nel 2018, ma in circolazione ce ne sono moltissime, tra poco vi diremo anche quante. Vi sarete accorti così nelle attività di tutti i giorni, vi sarete accorti che i commercianti non è che proprio le gradiscono troppo queste monete minuscole, però insomma per legge devono accettarle e anche di questo vi sarete accorti, si possono fare, poi vi spiegheremo il perché e il per come, degli arrotondamenti per difetto o per eccesso. Buon pomeriggio a tutti, bentornati e siamo noi, oggi condivideremo con voi tantissime curiosità sul mondo delle monete, degli spiccioli, chissà magari a casa abbiamo un piccolo tesoretto e neanche lo sappiamo. Allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a Carlo Pileri, portavoce di Consumer Italia, esperto numismatico, una passione la sua, che lo ha portato negli anni 40 credo, a collezionare tante diverse monete e benvenuto Umberto Moruzzi, presidente dell'associazione Numismatici Italiani Professionisti. Benvenuti entrambi. Allora Pileri, io parto da quel dato che non ho dato, ho detto sono tante, ma quante sono le monetine da 1-2 centesimi in circolazione? Le monete in circolazione è difficile valutarle perché sappiamo che il mondo dell'euro è un mondo fatto da più stati e tutti coniano le proprie monete che poi circolano. Nel nostro paese? Nel nostro paese ne ha coniate circa 3 miliardi e mezzo dall'inizio, dal 2002 e probabilmente ce ne sono di più perché saranno arrivate anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, dagli altri paesi. È difficile quindi valutare la circolazione complessiva, però sicuramente ne sono state coniate. Sono miliardi ci sta dicendo. Oltre 3 miliardi e mezzo. Insomma, una bella città. Solo il primo anno ne sono state coniate 1 miliardo 348 milioni. Questa radice lunga, se ne sono passati parecchi di anni e ci sono però dei paesi che le hanno abolite, se non sbaglio. Sì, ci sono dei paesi che le hanno abolite. Innanzitutto la Finlandia le ha abolite subito, con grande polemica perché l'Unione Europea, insomma la Banca Economica Europea, era in dubbio sulla legittimità di abolirle, però anche per il fatto che la Finlandia contava poco nel contesto complessivo finanziario, economico, è stata accettata questa soluzione. Però subito dopo altri paesi, sono sei in tutto, compresa l'Italia, il Belgio, l'Olanda, l'Irlanda e la Slovacchia li hanno aboliti nel corso degli anni. L'Italia, che lo diceva lei prima, nel 2018 con una legge del 2017. Grazie. Moruzzi, io conservo gelosamente un libretto in inglese che mi è stato regalato quando ero bambina, si raccontavano le vicende di Paperone, il suo primo nickel sul quale ha costruito una fortuna. Tuttavia queste monetine un po' scomode sono, talmente piccole che a volte è difficile maneggiarle. Allora volevo chiederle se quando si è deciso di introdurle, con l'introduzione di fatto l'ingresso dell'euro nel 2002, è stata subito una decisione condivisa, quella di adottare tagli così piccoli, ci sono state obiezioni, è stata pacificamente introdotta quella dimensione? Io sarò il signor no oggi. Va bene così, va bene così. La decisione non è stata contrastata all'emissione degli euro e della coniazione di queste piccole monetine. Va detto anche che in realtà queste monete sono assolutamente in circolazione ancora. In realtà non sono in quei sei paesi, inclusa l'Italia, non sono più coniati per la circolazione, ma è ancora moneta spendibile. Questo va precisato. Va precisato. Ma a parte questo, va detto che la nascita di queste mini monetine non hanno soltanto una funzione diretta dello scambio, quindi per il pagamento di quei valori, ma è anche un'occasione importante per dare valore a quella moneta, a quella valuta. Quindi sapere che esiste anche il centesimo dà maggiore valore. È stato molto chiaro. Senta Moruzzi, storicamente monete di piccole, piccolissime dimensioni, ce ne sono sempre state, risalgono a tempi anche molto antichi. So che lei ci ha portato qualche pezzo che risale addirittura, credo, all'antica Grecia, all'antica Roma. Quando sono state più che coniate, forgiate le prime monete? Guardi, le prime monete sono, diciamo, le prime monete accertate sono del VI secolo a.C., ma le piccole monete circolano praticamente da quando esiste la moneta. Quindi non è una novità coniare monete piccole quanto un centesimo. Io vi ho portato a far vedere, per esempio, un bronzo greco di Siracusa e un obbo, solo in argento, non so se riuscite a vederle, che sono praticamente delle monete di modulo addirittura inferiore al centesimo e circolavano. La metta bene in vista, così in favore di telecamera, ce l'ha di fronte lì? Eccola. Eccola lì, la telecamera, così, perfetto. Questa è una monetina di corso fiduciario, diciamo, oggi si potrebbe dire così, che non aveva una diretta corrispondenza con l'oro e l'argento. Una moneta minimale della polis di Siracusa nel V secolo a.C. Quindi potete immaginare che non è una novità per l'uomo possedere e scambiare beni attraverso una moneta piccola. Tanto piccola. Ve ne faccio vedere ancora un'altra, sempre greca, di Siracusa, dello stesso secolo, che è un obbolo in argento. Guardate che... La moneta sempre bene... Sì, devo riuscire a tenerla per quanto è piccola. Guardate, questa moneta circolava in argento, quindi questa era nella scala ponderale delle monete d'argento e quindi aveva un cambio diretto anche con quelle d'oro e circola dal IV secolo a.C. Hanno percorso una lunghissima strada. Ma anche Roma. Sì, nel corso della puntata Morussi ci farà vedere diverse altre monete che hanno un grande valore storico. Nel frattempo noi torniamo ai ramini e torniamo a condividere con voi alcune curiosità e lo fa Simone. Eh sì, ci piacciono tanto le curiosità, Gabriella, perché circa dieci anni fa la Commissione Europea, ha cercato di capire la sostenibilità dei ramini e per questo ha interpellato le zecche poi di tutti i paesi dell'area euro. Ecco, il risultato? Che la moneta da 1,02 sono monete particolarmente costose. Sì, lo so, sembra strano, ma dal punto di vista della produzione, ecco, queste monete hanno un costo più alto rispetto al loro valore effettivo. Un esempio. La moneta, anzi, per produrre la moneta da 1 centesimo, beh, vengono spesi 2,5 centesimi. Addirittura quella da 2 centesimi costa 5, quindi un valore di 150 volte, quindi 150% in più del suo valore effettivo. Il costo chiaramente varia da paese a paese, ad esempio la Francia ha speso molto, molto meno probabilmente per il costo delle materie prime e invece per quanto riguarda l'Italia, Gabriella, ecco, in realtà per l'Italia non lo sappiamo perché all'epoca il nostro paese non ha fornito le cifre sui costi di produzione. Ecco, Pilleri, ma insomma, noi abbiamo detto che sono stati discontinuati, il conio insomma si è introdotto nel 2018. Costava molto produrre queste monete e secondo lei c'è stato un risparmio nel smettere di coniarle? Lo diceva adesso, il costo delle monetine è più elevato del valore nominale, cioè di quello che c'è scritto sulla moneta. In Italia, la Banca d'Italia e il Poligrafico non hanno mai comunicato il costo della moneta da 1 centesimo, il costo reale. C'è stata un'interrogazione parlamentare di un gruppo parlamentare che si chiamava SEL, che ha detto che una moneta da 1 centesimo in Italia costava 4,2 centesimi. Quindi 4 volte, capiamo anche che con 3 miliardi e mezzo di monete coniate si moltiplica per 4 per capire il costo complessivo. Moruzzi, lei è d'accordo, diciamo che c'era una sproporzione talmente evidente che poi aver smesso di coniarle ci ha portato a risparmiare? Oggi ha detto che vuole fare il signor no. Assolutamente sarà il signor no anche in questo. Indubbiamente i costi sono elevati. Sono elevatissimi anche negli Stati Uniti dove è prodotto ancora il cent. Certo. E il cent americano. C'è il pen inglese pure. Sì. Poi c'è anche il pen inglese. Esatto. Il cent americano, ma possiamo parlare anche del pen inglese, credo che sia qui. Oddio, non lo trovo più. Eccolo. Comunque il cent americano, perché abbiamo dati molto precisi. Lo stiamo vedendo sullo schermo, quindi non si preoccupa di mangiare. Il cent americano ha dati molto precisi. Cognato dal 29 con questo conio. Fu modificato nel 2009 dove si pensò proprio all'idea di eliminarlo. Anche perché negli Stati Uniti all'epoca già costava due centesimi. E perché si decide non farlo? Per un discorso economico, non strettamente economico sulla produzione, ma sicuramente d'aiuto nel controllo della svalutazione della moneta. Cioè sapere che esiste anche il centesimo del dollaro e in Europa dell'euro, indubbiamente è psicologicamente un modo per controllare la svalutazione. Interessante. Ci riporta sempre lì a quel valore. Io torno da Simone perché a questo punto abbiamo proprio piacere di farvi entrare dentro la trasmissione. Eh sì Gabriella. Allora, dite la verità. Cosa fate con queste monete da 1-2 centesimi? Li donate? Li spendete nei negozi? Li lasciate nel salvadanaio? Insomma partecipate alla puntata e mi raccomando se avete delle domande, visto che tra poco parleremo anche di valore, quindi valore delle monete anche quelle antiche, per esempio le lire, perché no? Segnalateci tutte le vostre domande. E poi Gabriella se posso ne approfitto perché vorrei condividere con voi una cosa curiosa, un sondaggio che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Instagram, quindi mi raccomando seguitici anche lì, perché a Roma per indicare il valore 100 si usa un termine, non so, 100 lire, 100 euro, si usa napiotta. Ecco, allora vi chiedo, sapete perché? Se non lo sapete mi raccomando restate in questa puntata, seguiteci e allora noi vi aspettiamo comunque sul nostro numero Whatsapp, perché si è attivato 348 30 70 345, attivi ci sono tutti i nostri social e ovviamente la nostra mail di redazione, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Grazie Simone, tra poco naturalmente sulla Piotta qualcosa vi diremo anche noi, grazie ai nostri ospiti, così come condivideremo moltissime altre curiosità, ma visto che queste siamo noi, insomma il nostro programma lo sapete ha un'anima, un cuore, per cui noi vogliamo suggerirvi, indicarvi anche degli usi solidali di queste minuscole monetine, quindi restate con noi, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Allora, oggi stiamo parlando di qualcosa che abbiamo costantemente tra le mani e sotto gli occhi, però non ne sappiamo abbastanza, una puntata piena di curiosità. Parliamo di ramini, che sono quelle monetine minuscole da 1, 2 centesimi, abbiamo smesso di coniarle in Italia nel 2018, ma circolano ancora in grandi quantità, miliardi ce ne sono in giro, noi fatichiamo un po' a utilizzarle, a tirarle fuori dalle nostre borse, le abbiamo dappertutto ma poi dobbiamo metterne tante insieme, così ci siamo chiesti, ma continuiamo ad usarle volentieri, se non le usiamo che cosa ne facciamo, le conserviamo? Insomma, la nostra Marta Manzo è andata in giro per la capitale a tastare il polso dei cittadini romani. Bonetine da 1 o 2 centesimi. E ancora? No, non ce ne ho più. Niente, ce l'ho a casa, ho fatto il barattolo. Vieno così e ci gioco, faccio le petine e le metto sulle carte da Cinco, un gioco che si gioca a carte a Natale. Sì, sbucano ogni tanto qualche centesimo, sbucano, sì. Vediamo un attimo. Niente? Sì, ce li ho, eppure tanti. Uno o due centesimi, le monetine, che ci fa? Niente, li teniamo lì. Cerco di darle via al supermercato, ancora l'accettano. Me le chiedono se ce l'ho, le do. Quando le devono dare loro a noi, comunque non ce le danno più. Non hanno più il resto da dare, però allora gli dicono, vabbè, per un centesimo glielo schialò la prossima volta. Ma lei che fa? Le raccoglie? Una volta li mettevo da parte in un salvadanaio e dico così poi li posso cambiare per dare ai poveri. Io le spendo, le tengo nel portafoglio quando me le tento non gliele do. Uno o due centesimi che ci fai? Le butto, sì. Non le tengo, sì, 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 sì. Purtroppo è così. Le dà fastidio averle? Si danno molto fastidio nel portafoglio, infatti quando posso me ne libero. Perché ormai non si usano più e ormai non appara tutti i conti, i centesimi si stanno togliendo di mezzo. Sono contrari a quelle monedine anche perché sono pericolose per i bambini. In che senso? Perché se li possono mettere in bocca o infilarli nel naso. Lei lo sa che si possono ancora cambiare? No, non lo sapevo, ma mi avevano detto di no. Sì, lo sapevo questo. C'è una macchinetta che dovrebbe prenderli e cambiarli, doveva stare a termini, ma non c'è più. Dove poterli cambiare? In banca oppure alcune poste, non tutte. Questo non lo sapevo, grazie per l'informazione. Lo farà? No, non credo. Conviene più come ricordo che cambiarle. Ecco, avete sentito, buttarle proprio no. Mi sembra veramente esagerato. Moruzzi scuoteva giustamente la testa, ci ha ricordato che insomma sono un'unità di misura del valore del denaro. Ma io adesso approfitto della sua presenza qui per condividere alcune curiosità storiche. Vado punto per punto e parto dal primo che mi era appuntato, che è l'espressione molto utilizzata, non vale un quattrino. Che cos'era il quattrino e da dove arriva questa espressione? Il quattrino era la moneta più piccola dei sistemi monetari, soprattutto del centro Italia, in Toscana, e poi rapidamente è stata adottata nello Stato Pontificio. Noi abbiamo qui un quattrino dell'epoca di Pio IX e indubbiamente, come potrete vedere, ha una misura molto simile a quella dei nostri centesimi. Ma nella storia, dall'epoca greca fino a oggi le minimonete hanno sempre circolato e hanno dato valore a quelle maggiori. Per questo vi consiglio di visitare l'avventura della moneta, una mostra in corso al Palazzo delle Esposizioni a Via Nazionale a Roma, organizzata dal MUDEM, che è il nascente museo della moneta della Banca d'Italia, dove mi onoro di essere loro consulente, e che illustra molte cose sulla moneta che la maggior parte non sanno. E soprattutto il collegamento che c'è tra la moneta, l'economia e la finanza. Molto interessante, anche per avvicinare i più giovani all'educazione finanziaria. Grazie del consiglio. Mi sembra davvero interessante. Poi sul pontificato di Pio IX sentiremo qualcos'altro, perché è stato un pontificato felice per quanto riguarda le vicende e la storia delle piccole monete. Pileri, torniamo ai nostri giorni e torniamo ad alcune delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato dai concittadini romani. Qualcuno ha detto quando si deve dare il resto, magari gli riscalo. Come funziona? Partiamo da qua intanto. I commercianti sono tenuti ad accettare i nostri centesimi? Possono rifiutare di farli? Esiste un limite? Se io comincio a raccogliere tantissimi pezzi, loro possono dirmi di no? Allora, ci sono parecchie cose da dire su questo, e forse è anche la cosa che può interessare di più gli ascoltatori. Qui intervengo un po' come portavoce di Consumer Italia, come consumatore, insomma. Intanto c'è da dire che la moneta da un centesimo, la chiamiamo ramino, ma è solo rivestita di rame. Cioè dentro è acciaio, è acciaio rivestito di rame. Il 90% è acciaio e il 10% rame, quindi non si può utilizzare per fondere e ottenere il rame. Questa è la prima cosa. La seconda questione, la butto. È assurdo buttare soldi, comunque. È assurdo anche perché possono essere accettati. Possono essere accettati dai commercianti, come mi chiedeva lei, e possono essere accettati dalle banche, dalla posta, possono essere cambiati con le macchinette. Io, quando ce ne ho tanti, li cambio a un supermercato, ci sta la macchinetta, si mettono e ti esce lo scorrino. Quindi si possono scambiare. Quindi il modo di cambiare c'è. Purtroppo il valore è talmente poco che spesso si trovano per terra. Io le trovo per terra. È la moneta che trovo di più. È difficile trovare due euro per terra, un centesimo di più. Perché cade, non ti pieghi a raccogli. Io mi piego e le raccolgo, perché comunque è un peccato che vadano sprecate. Ma io posso darne quante ne voglio a un commerciante? Sono i commercianti, la posta, sono obbligati tutti quanti ad accettarle fino a 50 monete. Quindi l'equivalente di 50 centesimi sarebbe. E questo ci sta un obbligo di legge. Ovviamente se conosci il commerciante che gli servono, te ne puoi prendere 100, 200. A me ne prendono il sacchetto. Il limite è 50 che devono essere comunque accettate. Quindi io devo pagare 50 centesimi, posso pagarle con 50 monete da un centesimo. E la questione degli arrotondamenti per eccesso e per difetto è regolata per legge? Sì, è regolata. A 1,2 centesimi si arrotonda 0. Quindi diciamo a vantaggio del consumatore. 3,4 si arrotonda 5. Quindi a svantaggio del consumatore. E questo è un po' un punto importante. Perché per esempio, quando fanno i prezzi civetta, quei prezzi per attirarti nell'attenzione che mettono in vetrina, 99,99. Se io ti do però 100, tu mi dai il centesimo di resto? Non me lo dai. Allora è un messaggio fuorviante, addirittura truffaldino potrebbe essere considerato. Interessante questo. Ci sta aiutando a essere un po' più attenti. Non lo diciamo sempre. Attenti ai prezzi, attenti all'etichetta, attenti a tutto quello che potete leggere sui prodotti che decidiamo di acquistare. Noi votiamo col portafoglio, di fatto. Ricordiamolo sempre. Comunque abbiamo veramente molte altre curiosità da condividere con noi. Con voi tra poco vi racconteremo anche quanto benefici possono essere a fini solidali questi piccoli centesimi e vi sveleremo anche perché si usa questo termine piotta. Allora tra pochissimo ci rivediamo qui in studio. Eccoci tornati in studio. Continuiamo a parlare di quelle monetine che abbiamo dappertutto i ramini, monetine da un centesimo, da due centesimi. L'abbiamo detto, ripetuto, non si coniano più però circolano in grande quantità e qualcuno invece di tenerle in borsa o nelle tasche li tiene magari in una specie di improvvisato salvadanaio dentro un contenitore con l'idea di scambiarle ma poi magari non accade mai. E invece ci sono tantissime iniziative molto concrete per utilizzare a scopi benefici di solidarietà i centesimi. Allora il nostro Rosario Sardella è stato a Rieti. Lì il Comitato della Croce Rossa Italiana ha lanciato un progetto che si chiama Il Centisimino 2.0. Vediamo di che cosa si tratta. Siamo all'interno del Comitato della Croce Rossa Italiana di Rieti Tra le varie iniziative che stiamo portando avanti attualmente troviamo la campagna di raccolta fondi Il Centisimino 2.0 È una campagna di raccolta fondi delle monete di piccolo taglio nello specifico quelle da 1, 2 e 5 centesimi. L'iniziativa, partita qualche anno fa, ci ha permesso inizialmente di ripristinare i defibrillatori presenti all'interno del nostro Comitato. Abbiamo potuto acquistare le patch e le batterie che frequentemente vanno ripristinate ed aggiornate per avere uno strumento funzionante e sempre pronto all'intervento. Se ci chiedono le finalità e le modalità di adesione ce le abbiamo. La campagna si realizza con il supporto dei commercianti del territorio reatino che grazie ad una convenzione ci hanno permesso di posizionare all'interno delle loro attività vicino alle casse i salvadanai. Questa è la terza volta che riprendo il contenitore dei centesimini perché vedo che la gente partecipa ed è contenta e anzi tornano a volte proprio di loro volontà e mettono i soldini dentro e vanno via. Se io do dei centesimi o loro li hanno nel portafoglio ce li mettono sempre, quasi sempre. Io stesso ai clienti quando do il resto che avanzano queste monetine dico mettiti dentro la croce rossa e fai qualcosa di buono. Il ricavato di questa seconda raccolta fondi sarà utilizzato per finanziare la formazione del nostro comitato e speriamo di trovare lo stesso entusiasmo trovato oggi. Pileri, Rieti poi tra l'altro forse è la città giusta per questo genere. È la città giusta, sì, perché Rieti è l'unica città in Italia ad avere il monumento alla lira. Ecco, lo stiamo vedendo sullo schema. È il monumento alla lira. Ed è stato fatto coniando e fondendo le cento lire. Cioè il metallo utilizzato per fare il monumento è stato ricavato dalla fusione delle vecchie cento lire. Ecco, i giovani che non le hanno mai conosciute è molto simbolico. Hanno questo monumento che ne preserva la memoria. Una testimonianza diretta. Ci state scrivendo in tanti? Ebbene sì, Gabriella. Allora parto subito, ci sono anche delle domande. Parto con nonna Maria che dice Guai a chi butta i centesimi. Io ho appena riempito un barattolo di due chili e poi Antonietta, io le conservo, chissà, magari portano fortuna. Emilio, io non so che farci. Ogni tanto le do a mio nipotino, ci giochiamo insieme. Giussi, io li cambio nei supermercati oppure li accumuliamo in parrocchia per i progetti solidali. E poi Claudia che dice qui non li accettano tutti. Un commerciante qualche giorno fa scherzosamente mi ha detto se devi pagare con quelli non venire più. E poi Moruzzi, ci sono delle domande. Ci sono delle domande a risposta flash, mi raccomando. Intanto la prima. Qual è il valore delle 500 lire d'argento? Sì, la 500 lire d'argento è stata coniata in centinaia di milioni di esemplari quindi ha un valore molto contenuto. Diciamo un prezzo medio potrebbe essere intorno ai 7 euro. E invece Sara, ho 60.000 lire in monete. Ma si possono cambiare? No, non è più possibile dal 2011 quando per una finanziaria furono utilizzati un pochino anche i fondi che erano stati destinati al cambio fino al 2012 delle vecchie lire. Quindi non si possono più cambiare. E poi niente, Sara, ti devi mettere l'anima in pace. Ultima domanda. Ho una moneta da 2 euro dedicata a Falcone e Borsellino, un'altra a Giovanni Pascoli. Ma come mai vengono prodotte tutte queste edizioni? E quanto valgono? Allora, qui serve qualche secondo in più per dirvi che esiste una serie, un'emissione valida per tutti i paesi europei di coniare monete commemorative in 2 euro. Due commemorazioni ogni anno. Noi abbiamo avuto anche quella di Falcone e Borsellino, anche una dedicata allo sforzo dei sanitari durante il Covid e così via. Ma queste monete hanno un grande valore simbolico, ma economicamente non hanno valore. Quelli che pensano che possano trovare nelle tasche monete di valore... La gemma, diciamo. ...purtroppo sono tutte effettive. Il valore è etico, è simbolico. Etico è importantissimo, ma commerciale nullo. Niente, niente. Senta, Moruzzi, noi ci siamo lasciati sulla curiosità prima della pubblicità, molto prima della pubblicità, del termine piotta. Da dove arriva questo termine che indicava? Mi sembra 100 lire, adesso 100 euro. Sì, è il termine gergale romano che poi si è diffuso anche intorno a Roma, quindi non più direi solo romano, per definire una moneta da 100. Nasce da quando lo Stato Pontificio regnava ancora come papare Pio IX, pensarono di aderire, anche se solo formalmente, cioè soltanto sostanzialmente, ma non formalmente, all'Unione Monetaria Latina, che era un'unione monetaria che potremmo definire in maniera molto semplicistica, molto simile a quella dell'euro. In questa unione vari paesi, tra cui l'Italia, la Svizzera, la Francia, incognavano monete dello stesso tipo e dello stesso peso, sia in oro che in argento. E in questo modo anche lo Stato Pontificio utilizzò questo standard e coniò per la prima volta una moneta da 100 lire in oro, grande, molto grande, e che riportava al dritto l'immagine di Pio IX. E da lì, da Pio IX a Piotta... Sì, perché non ci si pensa. Senta, Moruzzi, abbiamo mandato in frontumi qualche illusione poco fa, qualche speranza, però tra le monete, sia lire o monete già in euro, in circolazione, ce n'è qualcuna di particolare valore? Cioè, dove veramente il valore economico c'è? Per gli euro di monete realmente circolanti non ci sono monete che hanno valore, quindi va sfatato questa leggenda, queste fake news che dicono che nelle monete in euro ci sono, soltanto per fare un esempio, il 50 centesimo italiano del 2002 che vale 300 mila euro. No, purtroppo non vale nulla. ci sono tanti pseudogiornalisti che scrivono per like e mandano in giro notizie del genere e soprattutto truffatori, pseudotruffatori che tendono... Le lire, che voglio sentire anche Pilleri, che siamo in conclusione... Le lire ci sono, ma sono poche e limitate soltanto a qualche anno, come il 46 e il 47, ad esempio. Quindi, me lo dica, diciamo Flash, investire in monete non è proprio un investimento come lo intendiamo noi, ma il valore, magari un valore storico... No, c'è anche una seria possibilità di investire in monete da collezione, ormai che negli anni hanno consolidato un loro valore, però non certo si potrà pensare di trovarla in tasca. Certo, è stato cristallino. Pilleri, siamo in conclusione. Noi stiamo attendendo, proprio a giorni, una possibile pronuncia della Commissione europea, per quanto riguarda proprio il destino dei ramini, delle monetine di cui parliamo da uno o due centesimi. Si potrebbe, per esempio, decidere di abolirle del tutto? E so che è una scelta che non le farebbe affatto piacere. No, non mi farebbe piacere per le ragioni che diceva prima Moruzzi, per quanto riguarda il centesimo, perché il centesimo è la base della nostra sistema monetario, oltre a rischiare che si aumentino i prezzi. Tu dici, vabbè, è di un centesimo, sì, ma arrotondando, poi si sa bene, già è successo quando è passato dalla lira all'euro, gli arrotondamenti hanno fatto aumentare tutti i prezzi, lievitare tutti i prezzi, quindi a svantaggio dei consumatori. Sui due centesimi, invece, penso che effettivamente sia una moneta superflua, tant'è vero, anche negli Stati Uniti l'hanno abolita addirittura 150 anni fa, insomma, anche i due penni in Inghilterra non ci sono più, quindi il due centesimi penso sia giusto, il centesimo penso sia giusto invece mantenerlo. Grazie, Moruzzi a noi, va sui due centesimi, lì non è stato il signor No, io vi ringrazio perché ci avete accompagnato in una puntata piena di curiosità, io sono riuscita a resistere alla tentazione di mettere le mani nel nulio delle monetine. Noi ci buttiamo tutti sopra. Esatto, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci siamo dal lunedì al venerdì alle 15.15 e vi aspettiamo in studio. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.